parecchio ecco vorrei sentire tipo tipo le interviste dopo l'arresto cioè nel senso che cosa hai provato la prima volta cioè quando hai scoperto che ti hanno hackerato l'account che cosa hai provato quali sono state le tue sensazioni poi come hai fatto a scoprirlo mi ha contattato su whatsapp chi mi ha hackerato l'account perché mi aveva preso tutti i dati scusami mi bannate mi avevano preso proprio tutti i dati anche con l'autentificazione a due fattori quindi c'era il telefono, la mail, tutto e quindi poi visto qua mi ha presa cioè mi ha contattata su whatsapp è lunghissimo credo sia più facile non scammarlo secondo me allora te lo mando l'ho scammato sto scherzando fate uno screen di questa foto qua raga è riposata sulle storie di Instagram no non l'ho scammato attenzione però è vero devo stare attento un attimo a sta cosa aspetta dove cazzo sei? aspetta Carlotta ragazzi tornerà tornerà Carlotta io non posso dirvi solo questo non posso dirvi altro tornerà 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 passiamo un attimo ma si ragazzi il copyright mi chiedi dove sei ti dico vieni su lo so già cosa vuoi il copyright ce l'ho io cantandola ma è questo il punto qua c'è il copyright e poi e poi eeeh baby 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 mi fai più dell'alcol mi fa no sta cantando l'altro stronzo è vero grazie Mirko grazie mille schede ah e fate i pronostici in chat se volete ma lei si sta godendo la chat oppure sta cagando ah mi sta facendo entrare attenzione attenzione eeeh altro da poco sto incominciando a stremmare pure io ah ok va bene un piccolo spammino se vuoi non c'è problema volentieri eeeh ho aperto il canale da poco ok e come ti chiami? ok ci sta ci sta credo che tutti andranno a seguirti secondo me grazie mille la signorina lasagna lasagna? si ok lasagna me la ricordo per forza essendo grass no autobodyshaming è il mattino autobodyshaming no si perché so che magari in chat l'avrebbero pensato quindi l'ho anticipato ma no eeeh ti voglio credere anche se mi sembra una stronzata però ti voglio credere voglio darti vediamo se mi fa entrare scrivete che mi dovrebbe far entrare nella diretta perché la vedo un po' titubante che froscia che si prendo le distanze massime prendo le distanze massime da una frase simile ma cazzo di ah yeah por think so no do yeah sorry i don't understand what you have told me so i'm just doing like this to don't fake a figure de merd no we're trying to read the comments no no comments are comments are strange are always strange it's worse place wow yeah in questo frista entro sono un forte ehi lo sai che mi chiamano folle te lo dico sai che faccio le bolle sono bravo in queste barre siamo tori te lo dico ti batto cosme van da due fantagenitori faccio queste barre te lo dico sai che te le spezzo sono bravo anche se faccio riprezzo cazzo faccio queste barre te le chiudo sono bravo te lo dico ma non faccio le mosse di judo vado avanti in questo frista sono pazzo perché te lo dico mi puoi succhiare pure il cazzo vado avanti in queste barre te le creo perché sono bravo sono un biscotto sono un oreo vado avanti in queste barre sono bravo perché tiro fuori solo delle cazzo di scimitarre ah questo frista sono magico te lo dico sai che sembro psicopatico vado avanti in queste barre vado giù col bob te lo dico sei bravo ma sembri spongebob ah questo frista è strano te lo dico sai che vengo da milano ah e te lo dico sono bravo me la cavo ah come un elettricista sono spagnolo è ancora meglio francesco zuccheri ufficiale ah no ok sono italiane ciao ah beh ci sta ognuno si chiama come vuole mi ha mandato lei la richiesta ma come ma me l'ha eliminato va bene gliela rimando gliela rimando come l'hai richiesta non è stata inviata mi sa che mi ha bloccato ma lo capisco scusate ma chi è ma chi è ma è prestato franco o un recato poliedrico e questo è poliedrico 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 ciao franco si si raga si stiamo per entrare raga easy due minuti entriamo molto molto ho mandato easy grazie no per i tre mesi e poi alle 22.30 avremo gli ospiti che vi ho detto prima puoi salutare Giacomo Belli bella Giacomo Belli grazie anche a color tile grazie mille e appunto poi alle 22.30 avremo avremo Rubino avremo Michelle avremo Natale avremo un sacco di ospiti veramente molto interessanti sperando non mi balzino all'ultimo ma me lo auguro me lo auguro fortemente che non mi balzino vediamo c'è la vicino no credo mia madre me l'abbia me l'abbia tolto che cazzo è mi sa che adesso le ragazze non le vedi più mamma ma dove cazzo l'hai messo? ma dove cazzo l'hai messo? mi sta sbagliando mi sta sbagliando ragazzi me l'abbia mi sta sbagliando mi sta sbagliando mi sta sbagliando Buono, sono d'accordo con te Sì Sì, sì, siamo già entrati, vero? Sì, siamo già entrati, vero? No, non fare così, Amado Non ci sta Dai, dai Buono Sono, non sono Ho capito un cazzo No, non ho capito assolutamente niente Ma comunque mi fido Cioè, comunque lo sguardo parla chiaro, un po' come il frero C'è il frero comunque con lo sguardo che ti magnetizza Va bene, dai Ti saluto È stato un piacere, mi raccomando a mezzanotte fuori il singolo Un significato anche Dicendo me ne frego il cazzo della tecnica E Lo faccio Scusami, stai dicendo che non ho tecnica? Ho vinto il concorso di tecniche Però Cioè, nel senso che Quando canti A volte Cioè, non è che sei sempre lì Perché ci sono quei cantanti Come magari uno stile pop Non so, tipo Beyoncé per dire Che ha uno stile Adesso ti passo un esempio di una donna Perché io quando studio, studio Scusa, sono un po' troppo cattivo Te lo chiedo, scusa Ehi Vado avanti Questa sembra un po' una accusa Sembra quasi una soprusa Vado avanti Te lo dico Sono forte in queste barre Te lo dico Sono bravo Ma non sono zarro Non sono zarro Te lo dico Sono bravo Perché vado a Monte Carlo Faccio questo TikTok è un po' Ma vuoi anche succhiarmelo Non era rivolto a te Te lo chiedo Scusa Voglio andare avanti Faccio queste barre Ma non sono bravo A fare queste barre Come tutti quanti Ehi Questo freestyle Te lo maledico Sono bravo Ma i mille tipe mi dicono Sei un mio amico Sono un coglione Sai che vivo nella frianzone E te lo dico Sai che sono forte In queste barre Te le chiudo Ma non sono bravo Né a fare karate Né a fare le mosse di judo Io veramente Complimenti Un po' Un po' Unexpected Tutto con questo Però Quando è che parte Affari TikTok Siamo tutti stanchi Te lo dico Non voglio dire La N-word Perché non mi chiamo Gaia Bianchi La questione politica Del governo Ma tu passi Da Mi piace farlo violento Il calcio La politica Ma Sì Di base sì No perché Lo so Sono un Sono un tuttologo Di tutto Cioè a me piace Non so se avete presente Quel tipo di persone Che tipo Voi ci uscite assieme E loro tipo spaziano Ma è bello Perché cioè Alla fine i discorsi Devono essere Comunque Devono seguire un filo Del discorso Cioè di base Quando tu Prendi Una trabeazione In un ordine Dorico Cioè nel senso Lo so che questo Qua è un paradigma Abbastanza stellare Però Aspettate Fatemi un attimo Concedermi Un attimo Da zuzurellone Ok Me la sono Zuzurellonata No volevo dire Che Cioè mi piace Spaziare in quello Che dico In realtà Cioè quindi Che Grazie a tutti